bella ragazzi bentornati su questo canale sono needless player e siamo qua con team fortress 2 primessina piccola noi siamo qua per fare lo speciale dei 75 iscritti ovviamente ci sarà la gente ma cazzo cosa fai speciale 75 che sono niente però ragazzi io ci tengo ai miei iscritti ci tengo a tutti quelli che mi seguono quindi io mi reputo secondo me una persona gentele che ricambia questo affetto con questo video sdrogo con team fortress 2 questo video sarà in parlerà praticamente delle tutte le kill che faccio con l'arciere in in due mappe che non mi ricordo il nome però in due mappe una è turbine e l'altra è non mi ricordo cos'era ogni kill che faccio un headshot o qualsiasi che faccio con l'arciere vi metterò io ovviamente metterò anche le mie reazioni perché ci sono state delle kill a caso veramente a caso comunque vi lascio al video ci vediamo al prossimo episodio ecco questa è la mia classe userò l'arco da cacciatore razorback più il pugnale per il quale quindi siti a inizi al massacre shooter ciacomo go co 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 Fire e adesso parte lo sdrogo ragazzi e adesso parte un altro sdrogo dov'è dove sono tutti gli ammazzo distruggo muori incredibile mamma mia non ci credo non ci credo no è preciso preciso una kill così precisa non l'ho mai fatta porco schifo quanti cazzo le scuole ti succo tra la la ooooh che kill ha ti succo ooooh incredibile dai muori muori caino caino caini siete tutti dei caini cazzo ooooh che kill coglione ooooh coglione rincorrimi poi muori si così muori e adesso signori si cambia mappa più divertimento ehhh andiamo let's go bg 00 andiamo che è la prima vittima che è la prima vittima la vedo l'ho intravista e spam nooo non è lisciato ah a caso ooooh non ci credo a caso a caso a caso più a caso di questa non l'ho mai vista più a caso di questa no del delirio veramente aia ooooh no non l'ho preso non l'ho mancato l'ho mancato l'ho però ucciso e moriamo con dignità moriamo con dignità però ho ucciso però il medico ti sta in culo e troviamo l'orologio mimetico così a cazzo grande allora standard ragionamento se mi è andata di culo lì vuol dire che mi incontra ue 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 coglione dove vai sparo così a cazzo sparo di nuovo a cazzo nessuno uohoh coglione aiuto però ne ho ucciso ne ho uccisi due ne sto buttando di segreti cioè guardate di lato ho fatto un massacro fatto dai così cazzo ue 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 Lo peccato, eh. Ha fatto male. Ha fatto male e distrutto, ha ratto male. Coglione. Oh, no. No, ho finito le munizioni. Coglione. L'ho preso! Oh, ha ratto male. Ha ratto male. Cioè, non c'è più niente da dire. Coglione. Oh, ha ratto male. Dov'io. Oh, oh. Delirio. 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 Mamma mia, ragazzi. Che delirio. Cioè, ragazzi, li ho distrutti, dai. Ho fatto una vita pazzesca. E siamo... Andiamo, andiamo. L'ultima vita, signori. Poi dovrò chiudere il video. L'ultima vita. Speriamo di usarla bene. Guarda lì. No, 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 no. Coglione. Oh, 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 oh. Sempre eccezionale. Sono sempre eccezionale. Headshot a vita. Fai niente, dai. Per questo video termina qui, ragazzi. Io ringrazio tutti quelli che si sono iscritti, quelli che si serviranno, che condivideranno questo video, che metteranno mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi. Grazie ancora per vi siete iscritti. Ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.